Ciao ragazze, allora nuovo video come avete letto dal titolo sarà il video delle novità della settimana Lidl ho preso infatti il nuovo volantino proprio questa mattina che come potete vedere è dedicato alla cucina francese con tutte queste specialità che adesso vi andrò ad elencare formaggi, condimenti, salumi, croissant e naturalmente tanti tantissimi vini ma anche tanti dolcetti come le tortine di cioccolato, i biscotti frollini, creme caramel ma mi faceva piacere segnalarvi anche tutte queste cose praticamente bio sono sempre come l'altra volta della linea bio gusto e benessere per tutti e abbiamo i piselli, i tortellini ripieni, i ravioli ripieni, la pasta di farro e il pane bio di kamut bauletto, wow fantastico polpette bio, orzo bio ma anche questa linea qui della granarolo sono tornati naturalmente tantissimi tantissimi prodotti del marchio Parkside e anche unità di abbigliamento come potete vedere moda fashion per lei del marchio Esmara con maglia da donna, camicetta da donna, vestito che è molto molto carino viene 9,99 euro, maglione, jeans super skinny, minigonna e ragazze guardate che belli che sono questi stivaletti mi piacciono proprio questi qua che sono un po' più alti e i prezzi devo dirvi che non sono male 9,99, 12,99 insomma i soliti prezzi molto molto buoni dell'abbigliamento Esmara e tutto questo è disponibile dal lunedì 29 gennaio sono tornate poi come potete vedere anche qualcosa di intimo ma la parte che mi interessava tantissimo proprio tantissimo segnalarvi è assolutamente questa del bagno un bagno sempre al top e nello specifico tutta questa pagina qui che è composta da accessori per i capelli in primis abbiamo la spazzola modellante multifunzione prezzo 12,99 euro ed è quella per i capelli ricci e invece sempre a 12,99 euro un prodotto che voglio acquistare perché mi attira tantissimo è la spazzola elettrica lisciante con display a led con rivestimento in ceramica e temperatura fino a 180 gradi ho sempre voluto provare queste spazzole liscianti per magari vedere se riesco a sostituirle alla piastra poi c'è l'asciugacapelli agli ioni con sensore touch prezzo 16,99 euro ed è questo phon sia nero che fuzia ancora abbiamo altri prodotti per il bagno come lo spazzolino e le ricariche e altre due cose che assolutamente vi segnalo prima sono questi due specchi prezzo 4,99 euro questo ha un 5x di ingrandimento quell'altro più piccolino 7x di ingrandimento io ho già uno specchio del genere sempre di mio mare però mi sembra di averlo pagato sui 10-15 euro e mi trovo benissimo lo uso soprattutto in bagno comunque per truccarmi un altro prodotto che vi faccio vedere è questo che è molto molto strano che non avevo mai mai visto ossia l'air twister a batteria è un aggeggetto che serve per fare le trecce per trecce e acconciature sono inclusi batteria elastici e libretto con consigli per appunto le acconciature è nero e fucsia e ragazze io sarei molto curiosa di provarlo però so che non lo utilizzerei tantissimo anzi se voi avete una cosa del genere fatemi sapere nei commenti se vi siete trovate bene o meno comunque ragazze con questo è tutto adesso voglio anche sapere da voi cosa acquisterete questa settimana se può interessarvi la recensione di qualche prodotto fatemelo sapere nei commenti vi mando un bacio grande e noi ci vediamo nel prossimo video ciao